Siano lodati Gesù e Maria. Mi piace molto oggi mettere la pagina di Vangelo di questo 29 novembre 2023 a paragone con il primo giorno appunto della novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione. Perché questo paragone? Perché questo abbinamento? C'è una frase nel Vangelo di oggi che vi leggo subito. Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. La Madonna, dopo l'annuncio dell'Angelo Gabriele, è stata sempre in serio pericolo. Qualcuno voleva il suo bambino, Giuseppe la voleva licenziare in segreto, il viaggio verso Nazareth la vede poi partorire in una stalla, la fuga in Egitto, il dolore sotto la croce, ma l'Immacolata è colei che schiaccia la testa al serpente antico, al diavolo. Leggiamo allora la pagina del Vangelo di oggi e diamo un'ulteriore parola di commento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e ai governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore Come inizia, fratelli e sorelle carissime, l'elenco delle beatitudini? Qual è la prima beatitudine? Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Sapete cosa significa questa beatitudine? Prendere tutta la propria vita insieme alla propria volontà e mettere tutto nelle mani del Signore. Colui o colei che mette tutto nelle mani del Signore può essere per caso abbandonato dal Signore? Se io prendo tutto di me e ti dico Signore, tu sarai da ora in poi il padrone, il custode, il governante, il timoniere, il responsabile della mia vita. Può forse il Signore, che è abbastanza serio, sapete, non come alcuni uomini, può forse il Signore dimenticarsi di me? Ce lo ricordo il profeta. Si può dimenticare una madre del suo bambino? Ma anche se essa si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai. E allora camminiamo così, con questa fiducia, con questa confidenza. La mia vita è nelle mani del Signore. Io mi abbandono a Lui, Lui si prende cura di me. Io lavoro per Lui, Lui mi benedice. Io aprirò la bocca per annunciare le meraviglie del Signore e Lui mi spianerà la strada. Io eliminerò il vizio dal mio cuore, dalla mia vita, dai miei pensieri, dalle mie azioni e Lui mi renderà santo. Auguri di santità a tutti e che la Madonna, all'inizio di questa santa novena, vi colmi di ogni grazia e benedizione dal cielo. Buon cammino.